Il porto di Pescara non è certo rose e fiori, ma il maltempo dei giorni scorsi ha dato il colpo di grazia, andando ad aggiungere sabbia a sabbia. La notte è stata decisamente critica, al punto che è stato necessario scortare i pescherecci da vicino. Nonostante questo, diverse imbarcazioni sono rimaste incagliate nei fondali troppo bassi. Per evitare nuovi rischi è stato predisposto un approdo alternativo ad Ortona, ma certo questa misura temporanea non può bastare a risolvere i problemi del porto. Questa notte è stata una notte molto molto faticosa, direi anche tragica, perché buona parte della marineria, stimo 10-12 pescherecci, e i più grossi in fase di uscita per prendere il mare hanno dovuto davvero lottare, hanno dovuto guadagnare un attimo la porta di uscita perché si sono insabbiati. Il pescatore che già di per sé fa una vita che è abbastanza dura, non può partire con animo non sereno, quindi devono essere presi degli urgenti provvedimenti. Stamattina ho avuto un incontro con una rappresentanza della marineria, ci sono 400 mila euro che erano messi a disposizione per poter fare una pulizia lungo banchina, dove anche là ci sono dei problemi. I pescherecci hanno anche difficoltà nell'accosto, quindi nell'eseguire in porto le manovre di sbarco del prodotto. Pertanto questi soldi sta cercando di poterli dirottare su una procedura di sommorgenza per cercare di ripristinare il passo di accesso. Per questa notte, questa notte buona parte dei pescherecci più grandi troveranno riparo, ma per l'operazione di sbarco, il porto di Ortona. La vasca di Colmata è stata riconosciuta un'ulteriore proroga anche per il 2019 e il nostro tentativo è appunto di cercare di avviare queste procedure, perché soprattutto nelle situazioni in cui ci troviamo, avere uno spazio dove in urgenza poter depositare le sabbie è molto importante. Le faccio una domanda strana. In una città ideale, con un porto ideale, in cui tutto funzioni, ci sarebbe comunque da prevedere e da programmare un dragaggio del fiume e se sì ogni quanto tempo? Sì, non è strana la domanda. Non è strana soprattutto se si tratta del porto canale. I porti canale hanno questa componente di sabbia che il fiume porta verso il mare. Attualmente Pescala si trova in una situazione un po' particolare, perché io le chiamo quattro porte aperte, anche la diga forane aperta, quindi il tentativo del mare di entrare all'interno dell'avanporto, il gioco delle correnti che porta comunque sabbia e il fiume che inesorabilmente porta verso il mare del materiale. Dobbiamo celermente portare a conclusione la seconda fase delle opere infrastrutturali che sono in corso, in maniera tale da chiudere almeno la possibilità, le correnti di depositare il materiale.